Barbara De Rossi, protagonista del Bacio insieme a Francesco Branchetti che ne è anche il regista e la storia di un incontro tra un uomo e una donna, da una diffidenza iniziale alle prime confidenze ad una complicità intrisa di emozione. Tutto questo avviene in un bosco, su una panchina, luogo di sosta in cui ci si concede del tempo per parlare, per conoscersi, per esplorarsi. Da qui si gode della miglior vista all'interno di percorsi che non sono solo panoramici ma anche introspettivi. Un viaggio interiore nel cuore umano, in quelle che sono poi tutte le sfaccettature. Quest'uomo e questa donna si incontrano, non si conoscono, vivono due, come sempre noi descriviamo in questa storia, due perfette infelicità e nel momento in cui riescono ad incontrarsi ad avere questa attrazione dell'anima, ad entrare in un terreno particolare che è quello dell'innamoramento e quello dell'incontro magico tra due persone riescono anche a raccontarsi le proprie fragilità, le paure, arrivarci in un modo o nell'altro proprio in virtù del rapporto magico che si instaura tra i due. E quindi è veramente un'esplorazione, come diceva lei prima, del cuore umano e di quelle che possono essere le, sono probabilmente caratteristiche e sensazioni nelle quali lo spettatore può riconoscersi perché tutti abbiamo delle paure, tutti abbiamo delle fragilità, tutti magari viviamo anche solo una piccola parte della nostra vita che non è soddisfacente, che non è quella che vorremmo. La vita è fatta di sogni, di incontri, di scelte sbagliate, di tutto questo. E quindi noi la portiamo in scena con la certezza che qualcosa di questo spettacolo appartiene a qualcuno. Nessuna certezza, solo incertezze. Oh sì, certo. Se vai in ospedale il momento sarà passato, il momento è unico, se vai in ospedale tutto sarà passato. Per poi cosa? Morire in un paese lontano, vorrei risplendere, risorcia in un paese lontano. Tu non hai niente, te lo giuro non hai niente, se vuoi in ospedale ti verrà qualcosa. E il fatto di andare in ospedale che ci rende dei malati, il fatto di stare lì, seduti, sui divani, da occhio alla televisione che ci rende differenti, e il fatto di desiderare così ardentemente compagnia che ci rende soli, sei il demonio. Sono un uomo con il costume d'orso, intrattengo i clienti alla reception, posso sapere con che cosa intrattengo te, ah, ti intrattengo il uomo, con un pizzico d'orso, ecco. Non è possibile. Francesco Branchetti, nonostante la storia metta in risalto anche degli aspetti diciamo drammatici, però il messaggio è di assoluta positività, di speranza o sbaglio? Non sbaglio affatto, nel senso che questi sentimenti, questo innamoramento, questo candore, questa grazia, in questo spettacolo si mostra in parte come possano essere dei sentimenti magari tenuti magari in secondo piano e che magari tirati però fuori quanto possano diciamo far rinascere magari due percorsi che non hanno iniziato diciamo col piede giusto. È uno spettacolo profondamente romantico e credo che sia profondamente positivo, anche giusto il termine che ha detto lei, che fa di questa, io la chiamo così, terra di mezzo della panchina e del bosco, un luogo speciale dove possono accadere delle cose perché i personaggi si sono predisposti in una certa maniera. A volte le cose succedono perché uno si predispone in una certa maniera. Forse il momento storico, diciamo, attuale è un momento storico che ci ha un pochino inrigidito in una negatività un po' a 360 gradi. Forse riscoprire magari un pochettino di capacità di buttarsi, di credere. Ecco, forse magari riapre nuove strade, anche parlo della vita privata, della vita sentimentale, ma non solo di quella. Ecco, è uno spettacolo che porterete per tre mesi nei teatri italiani, una collaborazione artistica già suggellata con Medea, quindi continuerà probabilmente, continuerete su questa strada? Per quanto mi riguarda, senz'altro sì. Per quanto riguarda me, insomma, noi ci troviamo molto bene insieme e Francesco, quindi sia nelle scelte, nel tipo di percorso che vogliamo fare insieme, nella scelta dei testi, dei ruoli che vogliamo affrontare nel nostro percorso di teatro, insomma. Ecco, per concludere, noi è una domanda che solitamente è una domanda di rito, da tradizione, proprio il vostro gradimento, cerchiamo di capire il vostro gradimento per quanto riguarda il teatro del Grillo. Io ho visto un pubblico molto attento, veramente tanto attento. Naturalmente è difficile cogliere tante sfumature, nel senso che uno è talmente preso, però è arrivata un'energia dal pubblico di grande attenzione. Erano molto attenti. Noi oggi abbiamo fatto due spettacoli e questo ho sentito. E poi il teatro è delizioso. Il teatro è, so che è un teatro di grande tradizione, che ha ospitato grandi attori, registi, delle belle commedie, degli spettacoli ed è veramente gradevole starci, insomma, recitare. Il pubblico attentissimo. Sono volentierissimo perché io quando arrivo in un teatro, al montaggio, arrivo presto al montaggio dello spettacolo, delle scene, delle luci, eccetera, e sono solito gironzolare per il teatro, nel senso che è un momento che a me piace tantissimo. E mi capita sempre meno spesso di vedere locandine, di vedere appeso alle pareti un teatro in cui mi riconosco. E ho passato la mattinata a vedere locandine di spettacoli che ho visto e in cui mi riconosco. Mi è capitato anche recentemente in un teatro in Emilia Romagna di stare lì a guardare locandine, locandine. È bello essere in un teatro. Il teatro del Grillo, l'impressione che ha fatto a me, è di un posto dove mi sento a casa. Diciamo, dove è stato fatto un teatro che mi assomiglia. Cosa che non sempre accade andando in tanti teatri dove non mi riconosco affatto nelle locandine che vedo appese. E quindi non è una risposta di circostanza, sicuramente. Grazie a Barbara De Rossi e Stefano Branchetti. Un angelo, ma dai, ma non scherzare, su! Addio! Addio. 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 Grazie.